Richard Stoker ci è stato strappato da un crudele scherzo del destino. Preghiamo per dare forza alla moglie e alla figlia di Richard. India, vieni a salutare tuo zio Charlie. Assomigli a mio padre. Non so cosa pensi di aver visto. Forse potremmo parlare del fatto che vivi qui con Charlie in questo modo. Strano come le persone spariscano all'improvviso. Che cosa vuoi da me? Diventare amici. Non abbiamo bisogno di essere amici. Siamo parenti. All'età giusta. L'età giusta per cosa? Mi sono chiesta spesso per quale motivo facciamo dei figli. E la conclusione alla quale sono arrivata è che vogliamo qualcuno che faccia la cosa giusta questa volta. India, che sei tu. Undine i tend VM Che cosa vuoi da che? Chi-Dade sportiveigliari. Chi-Dade sportiveigliari. Chi-Dade sportiveigliari.